L'economia circolare è uno degli elementi chiave della transizione ecologica che caratterizzerà il prossimo decennio per il nostro paese, ma anche per l'Europa e per il mondo. Nel 2021 in Italia l'Earth Overshot Day è stato il 13 maggio, è il giorno in cui abbiamo finito le risorse del pianeta. Se finiscono il 13 maggio vuol dire che ci servono quasi tre pianeti per vivere, ovvio che non possiamo farlo, quindi il tema dell'economia circolare è veramente chiave. Tra l'altro oltre a essere un dovere verso il nostro pianeta e verso le future generazioni, attiva anche importantissimi investimenti e sarà un importante motore per l'economia del paese. Quindi abbiamo di fronte un decennio chiave, non possiamo fermarci, abbiamo presentato oggi proprio qui a Cernobbio un lavoro in cui dichiariamo che entro tre anni le discariche del nostro paese finiscono, i paesi più virtuosi, ma anche alcune regioni come la regione Lombardia oggi già non conferiscono più nulla in discarica, l'Italia è molto asimmetrica tra il nord e il centro e il sud, ci sono molti investimenti a fare, 4-5 miliardi di euro facciamoli e diamo una mano alla ripresa del paese.